Mercoledì ci sarà The Lion, uno spettacolo che naturalmente sarà multidisciplinare, ma andiamo a vedere come si svolgerà questo spettacolo. Lei che è regista, come l'ha pensato? Allora, guarda, ti spiego. Dopo aver fatto il progetto dello scorso anno abbiamo deciso di ampliarlo, e quindi dare più spazio sia ai ragazzi, quindi anche all'età dei ragazzi, abbiamo scelto di inserire anche ragazzini più piccoli, bambini. Una volta prese queste decisioni siamo andati a strutturare il tutto. André che ha curato le coreografie, io ho riadattato la storia del famoso The Lion King, che penso che un po' tutti conosciamo, e Nichi, Nichi Nicolai, che ha curato la parte del canto. Abbiamo strutturato questo lavoro, non ti dico che è un musical, diciamo, è un esperimento, un esperimento di qualcosa di diverso. E quindi abbiamo scelto una linea un pochino più soft. E lo spettacolo quando e dove si svolgerà? Dunque, lo spettacolo sarà mercoledì al Teatro Traiano, al mattinè 10 per le scuole, e il serale alle 21 per tutti. Adesso passiamo invece alla parte della direzione artistica della coreografia, che naturalmente, come l'altro anno, ha portato avanti André della Roche. Quest'anno invece come hai sviluppato le coreografie e tutta la direzione artistica? La coreografia è, vabbè, per me viene abbastanza facile, perché ho già fatto questa versione nel 2001 a Argenta, abbiamo portato Fiesoli, Vittoriali. Allora, per me era una cosa che ho già fatto con un gruppo di 90 persone. Questa volta, in musical, essendo, ho pensato, ci sono tante ragazze e bambini che non c'è in musical versione di Broadway, neanche a Londra, ci sono tanto Simba, Piccola e Nala. Tutto il resto è fatto da grande. E niente, speriamo avrà un successo, ma non soltanto per il successo per il pubblico, ma anche per il successo per quello che ha partecipato, perché comunque è fatto in quella maniera lì, naif, ma non completamente naif, ma fatto per invogliare il pubblico giovane.